Sì, questo è un momento storico che va a tutti i pezzi ormai fa, ma naturalmente, ma cazzo a volume, qualunque pezzo ci sia, aspetta riprendiamo Lady Giagia che oggi è San Valentino e va a cenare con Johnny, buon appetito, riprendiamo Johnny che sta dipingendo, non lavora sempre, non vi preoccupate, vai alza, fuori fase, fuori fase perché dobbiamo sistemarlo meglio, ma, anyway, push it, push it some more, è che non ho cent'anni di video qua sopra, say'è questa cosa, un imparato, è sempre sempre più grande, un imparato perché nós fissi a sistema sinấu, e sorridi che ti vogliamo bene lo stesso è il terzo dia da montare vabbè io non mi voglio che prenda un'altra naturalmente grazie a tutti grazie a tutti